Libri scolastici gratuiti per tutti gli alunni e il plesso Don Bosco d'Assisi. Mentre la didattica a distanza mette a dura prova scuole e studenti, la dirigente Ammirati ha lavorato giorno dopo giorno per ottenere i finanziamenti necessari a un ritorno fra i banchi non solo sicuro, ma che non pesi troppo sulle finanze delle famiglie già provate dalla crisi economica. Questa mattina, nel rispetto dell'enorme anticontagio, la Preside ha incontrato i genitori nell'aulamagna della D'Assisi. A ognuno di loro è stata consegnata una borsa di tela recante il logo della scuola, una borraccia in alluminio ed un voucher. Tramite questo voucher si potranno richiedere, da oggi o direttamente all'inizio del prossimo anno, i testi scolastici gratuiti, tre volumi delle materie principali. Il progetto è nato dalla partecipazione ad un avviso del Ministero. Il Ministero ha messo a bando la possibilità per le scuole di partecipare per avere dei fondi per poter acquistare i libri scolastici. A questo bando noi abbiamo risposto, era il mese di agosto, molti erano in ferie, noi eravamo qui come sempre a lavorare per la nostra scuola. Abbiamo risposto a questo bando, siamo stati finanziati e abbiamo proceduto all'acquisto di circa 800 volumi che distribuiremo gratuitamente agli alunni che frequentano attualmente la scuola e penso che riusciremo a dotare di tali libri anche gli alunni che cominceranno l'anno prossimo il loro percorso alla scuola secondaria di primo grado. Concludiamo questo anno solare che ci ha visti drammaticamente protagonisti di eventi luttuosi, tutti ricordano ciò che ci è accaduto. Noi usciamo, concludiamo quest'anno con un atto di speranza, con un atto di forza che è quello di sostenere l'istruzione pubblica fortemente impegnandoci in maniera concreta per quelle famiglie, per tutte le famiglie della nostra scuola che chi più chi meno ha risentito di quella che è stata la crisi seguita alla pandemia. Un anno complicato per tutte le scuole italiane, un anno in cui si è detto che la scuola si è fermata. Come sta andando avanti l'attività della scuola? Come procedono i vari progetti della scuola in questo periodo? La nostra scuola non si è mai fermata. Abbiamo cominciato fin da subito a fornire ai nostri alunni gli strumenti multimediali tablet per poter partecipare alla didattica a distanza. La prima consegna è avvenuta il 28 marzo dello scorso anno, quando ancora la didattica a distanza non era stata resa obbligatoria. Abbiamo continuato con la distribuzione dei dispositivi, oggi contiamo di aver distribuito più di 100 tablet a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Inoltre abbiamo continuato a partecipare a delle progettazioni per accedere a finanziamenti e l'esempio dei libri è un esempio di tale dinamismo della scuola e stiamo portando avanti anche i nostri progetti PON a distanza utilizzando le piattaforme. Ed in questi giorni si sta svolgendo l'ultimo meeting del progetto Erasmus che aveva visto l'anno scorso presso la nostra scuola delegazioni spagnole, francesi e lituane. Oggi si sta svolgendo a distanza il meeting in Lituania a cui stanno partecipando i nostri alunni. Qual è l'appello che si sente di lanciare ai tanti ragazzi che devono iniziare o stanno vivendo questa situazione scolastica? È un momento difficile, la scuola è luogo di vita, è importante la ripresa in presenza delle attività didattiche perché come ho già dichiarato altre volte l'istruzione si può recuperare anche con la didattica a distanza ma le attività di relazione e di socializzazione fondamentali per i ragazzi della scuola del primo ciclo ma credo che per tutti gli studenti, quelle non si possono recuperare con la didattica a distanza. Noi stiamo supportando i nostri alunni e i nostri genitori anche con uno sportello psicologico proprio per accompagnarli a metabolizzare le difficoltà dovute da una forma di esplicazione della didattica che non è naturale.